5 maggio 2021 di cosa sta parlando il mondo della comunicazione e del digitale in questi giorni anzi da ieri non si parla più di covid non si parla più si parla sempre di Fedez pochino PMD ma si parla di Murigno Murigno che è diventato c'è stato l'annuncio ieri è stato nominato il nuovo direttore tecnico praticamente è il nuovo allenatore della Roma anche qua guardate i casi mediatici bisogna fare un po' di scalpore bisogna parlarne la notizia esce praticamente subito dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter e ovviamente Murigno è uno dei rappresentanti della storia dell'Inter avendoli portati al triplete e la Roma è stata grande avversaria proprio in quell'anno lì con spalle no c'era Ranieri forse in panchina della Roma in quell'anno e forse addirittura ha perso lo scudetto per un gol contro la Sampdoria mi sembra pazzini mi sembra di ricordare qualcosa del genere e comunque tutto studiato a pennello esce in questi giorni abbiamo la notizia tutti che parlano ovviamente di Murigno gran comunicatore la Roma non si è assicurata soltanto un bravo allenatore poi alla fine lo dico da avversario ma è un bravo allenatore mi piacerebbe vederlo forse sulla panchina della Juve ma per me va io sono sempre stato ammette di essere una vedova di Allegri senza grossi problemi però noi qua parliamo di digitale prima notizia su tutti i quotidiani cioè la notizia più importante perché di per sé Murigno si porta dietro tutto il suo brand i suoi gesti famosi, le sue esternazioni soprattutto il fatto che si inventa anche delle volte delle pantomime o delle gag è molto ironico anche se mantiene sempre il suo personaggio no no quando disse alla Roma zero titoli e adesso dove va alla Roma quello di quella proprio quella Roma dei zero titoli e quindi per quello è stato anche in tendenza ieri su Twitter e oggi ancora se ne parla dicevo perfetto l'uscita nel momento in cui inter 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 pum il tuo vecchio maestro diventa maestro degli avversari e con che precisione tra l'altro chirurgica e qua si vede che i nuovi proprietari della Roma molto probabilmente punteranno anche sulla sulla comunicazione cambierà questo tipo in Italia la comunicazione delle squadre è abbastanza scarsa devo dire la verità a parte la Juve, l'Inter, Polmina insomma tutto il resto sono le classiche comuniche non c'è niente di particolare in realtà abbiamo visto negli anni arrivare delle cose carine dalle squadre più piccole perché c'è il social media strategist che si deve inventare qualcosa da fare comunque ieri 4 maggio, oggi è il 5 maggio tra l'altro se ne parla anche oggi 5 maggio cosa vi ricorda? Ricorda la vittoria della Juventus l'ultima giornata contro l'Udinese guarda caso di nuovo incroci storici visto che c'è stata Udinese e Juve l'altro giorno la Lazio vince con l'Inter in l'ultima giornata 4-2 se non ricordo male ma potrei ricordare male tipo la doppietta di Poboschi e niente tutto coincide alla perfezione questo è anche una cosa da imparare quando dobbiamo comunicare facciamo coincidere delle cose perché poi è più facile in questa puntata per esempio utilizzo l'hashtag 5 maggio che è comunque il 5 maggio e tanta roba ci ha vinto anche una Coppa Italia all'Inter se non ricordo male sempre il 5 maggio ciao a tutti